Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione del Prof. Vetti. Oggi parleremo di quello che forse è uno dei miei argomenti preferiti di storia. Quanto è cool la storia! E infatti parleremo dell'illuminismo. Come sempre preparo un powerpoint e cominciamo con la lezione. Il titolo di questa lezione quindi è l'illuminismo e come sottotitolo vi ho messo il primato della ragione. Cominciamo dando una definizione di illuminismo. Che cos'è? Si tratta di un movimento culturale. In pratica un insieme di persone che noi oggi definiremmo intellettuali, all'epoca erano definiti soprattutto filosofi, tutte insieme queste personalità svilupparono un insieme di idee coerente che cambiò totalmente il modo di pensare alcuni ambiti fondamentali della vita dell'uomo. In particolare la politica, la giustizia, ma anche la religione. E poi lo vedremo. Questo movimento si sviluppa principalmente in Francia. Siamo nel XVIII secolo, quindi tra il 1700 e il 1800, ma poi ebbe grande fortuna un po' in tutta Europa, compresa l'Italia, ma anche in Inghilterra, in Germania, insomma un po' ovunque. E questo movimento fu fondamentale, proprio perché cambiò la concezione di alcune idee proprio alla base. Tra l'altro nacque in Francia non a caso, proprio perché dopo le politiche di Luigi XIV avevamo visto che la Francia aveva iniziato ad avere un ruolo centrale in Europa, e quindi non è un caso che sia nato proprio lì. Il nome illuminismo deriva dalla parola lume, perché secondo gli illuministi ognuno di noi, ogni essere umano, ha il lume della ragione. E grazie a questo lume della ragione, ognuno di noi ha la capacità di allontanare le tenebre che rappresentano l'ignoranza. Quindi è una metafora, quella dell'illuminismo, e da questa deriva il suo nome. Gli obiettivi che si ponevano gli illuministi erano emancipare il genere umano, cioè liberarlo. Ma liberarlo da che cosa? Soprattutto dall'ignoranza. Proprio perché dovete immaginarvi la Francia del 1700, quando la grande massa di contadini, artigiani, credeva ancora ciecamente nella magia, nella superstizione, nei fantasmi, in tutte queste cose qui. Quindi l'obiettivo degli illuministi era risollevare un po' il genere umano, e con l'obiettivo di creare un futuro che fosse migliore per tutta l'umanità. E questa cosa che tutti fossero all'interno degli obiettivi dell'illuminismo è fondamentale, come vedremo poi. Andiamo a vedere quelli che sono gli elementi centrali di questo movimento culturale. Innanzitutto una visione sicuramente ottimistica dell'umanità. Gli illuministi erano degli ottimisti, sicuramente, perché comunque loro pensavano di poter davvero migliorare il genere umano. E ovviamente questa è una visione ottimistica. Anche il progresso scientifico veniva visto in maniera molto positiva. Siamo dopo la rivoluzione scientifica che è avvenuta nel Seicento, quella rivoluzione fu fondamentale, ma cambiò soltanto una piccola parte del mondo, cioè quella legata alle scienze, mentre la stragrande maggioranza della popolazione rimase fuori dalla rivoluzione scientifica. L'illuminismo invece ha una grande fiducia nelle scienze, nel metodo scientifico varato da Galileo, e pensa che grazie al progresso scientifico l'umanità possa continuare a progredire tendenzialmente all'infinito, diciamo. Ma la cosa più importante, secondo gli illuministi, è il primato della ragione umana. Cioè, il fatto che ognuno di noi sia capace di pensare con la propria testa deve essere l'elemento fondamentale. Da ciò deriva il fatto che tutto può essere criticato. Non esistono dogmi per l'illuminismo. Secondo l'illuminismo, qualsiasi frase, qualsiasi affermazione deve essere sottoposta a critica. Dopodiché ognuno può decidere se è esatta oppure no. Un altro elemento centrale è il fatto che tutti gli esseri umani sono uguali. E anche questo, guardate, è qualcosa di veramente innovativo da cui poi prenderà le mosse proprio la rivoluzione francese. Ma fino a questo momento non era così. I nobili, ad esempio, non erano uguali ai contadini. E poi, per esempio, i bianchi non erano uguali ai neri. In questo periodo la schiavitò esisteva ancora. Quindi, insomma, questa affermazione era un'affermazione veramente dirompente. E poi, anche dal fatto che tutto può essere criticato, deriva il fatto che la religione non è più l'unica fonte di verità e non va più presa in maniera acritica. Cioè, bisogna criticare anche la religione quando è il momento. L'illuminismo è un ideale che possiamo definire laico. Cioè, non ateo. Gli illuministi, molti di loro, sono anche religiosi, credono in Dio, eccetera. Però non sono, non fanno parte della Chiesa e i loro ideali, appunto, dicono che anche la Chiesa comunque può sbagliare. Come vi dicevo prima, ci sono diverse sfere che vengono cambiate, vengono toccate dagli ideali dell'illuminismo. E le principali sono queste tre. La politica, la religione e la giustizia. Per quanto riguarda la politica, si pensava che fosse assurdo pensare che il potere del re derivasse da Dio. Il re è una persona come tutte le altre e governa finché lo vuole il popolo. Questa è un'idea totalmente nuova dell'illuminismo. Lo faremo in maniera più puntuale in un prossimo video. Ma uno degli illuministi principali, Jean-Jacques Rousseau, in pratica pensò che il potere derivava da un contratto tra chi governa e chi viene governato. Se chi governa agisce in accordo con chi viene governato, tutto va bene e il contratto viene rispettato. Ma se chi governa non rispetta più chi viene governato, allora il popolo che viene governato può ribellarsi a chi governa. E questo si chiama contratto sociale, secondo Rousseau. Ve l'ho detto così un po' veloce, ma per farvi capire proprio il cambiamento epocale, da un punto di vista politico. Per quanto riguarda la religione, come vi ho detto prima, gli illuministi non sono atei. Anzi, secondo loro, il mondo è così complesso che deve essere stato creato per forza da un'entità superiore, che possiamo chiamare Dio. Però la religione non si deve imporre con la forza e ognuno è libero di pensarla come vuole. Quindi la libertà religiosa è alla base proprio dell'illuminismo, è una delle idee proprio principali. Un altro campo fondamentale è quello della giustizia. E qui vi ho messo quattro punti importanti che sono cambiati proprio grazie agli illuministi. Il primo punto, le pene devono essere uguali per tutti. Ovviamente non era così, se bisognava dirlo, non era così. Infatti si torna sempre lì. Per quanto riguarda i nobili, non c'erano le stesse punizioni che venivano fatte ai contadini o agli artigiani. Per quanto riguarda gli schiavi, subivano dei trattamenti ovviamente molto diversi rispetto alle persone libere. E quindi questa era una cosa veramente nuova. Anche il rispetto per la persona, cioè vedere colui che commette un crimine, non soltanto come un criminale, ma come una persona che merita comunque rispetto, perché è un essere umano e anche lui ha il dono della ragione, teoricamente. E un altro elemento, che ancora oggi è difficile in parte da accettare, ogni pena che viene data ad un colpevole deve avere un fine rieducativo, cioè rieducare la persona a tornare in società. E non soltanto punitivo. Quindi non soltanto punire colui che commetta un crimine, ma anche cercare di rieducarlo per farlo tornare poi in società. L'ultimo punto, anche questo ci sembrerà banale, ma è il no alla tortura. Prima, per far confessare qualcuno, se non lo faceva di sua spontanea volontà, si ricorreva spesso alla tortura. Gli illuministi sono tra i primi a dire occhio con la tortura a chiunque confesserebbe qualunque cosa. Quindi non è un metodo neanche utile, non soltanto disumano, ma proprio inutile, perché comunque attraverso la tortura tutti confesserebbero anche le cose che non hanno fatto. Quindi il no alla tortura è un altro elemento che nasce proprio in questo periodo. Partendo da uno dei concetti base, gli illuministi pensano che tutti abbiano il diritto alla conoscenza, quindi tutti dovrebbero poter essere istruiti, andare a scuola, per poter elevarsi e uscire dalla loro condizione di ignoranza. Per questo motivo viene scritta una delle opere più importanti dell'illuminismo. Si chiama L'Encyclopedia, in italiano tradotta L'Encyclopedia. Quest'opera monumentale, enorme, era uscita in tantissimi volumi, viene iniziata a scrivere nel 1742 e l'ultimo volume esce nel 1772. L'idea dell'Encyclopedia è quella di raccogliere praticamente tutto il sapere umano. A idearla, ma non a scriverla, attenzione, furono due illuministi, un filosofo, Diderot, e un matematico, uno scienziato, D'Alembert. Questi due illuministi decisero di iniziare a scrivere questa enciclopedia cercando di raccogliere tutto il sapere umano, ma ovviamente era un'impresa enorme e non lo potevano fare da soli. E quindi cominciarono a contattare alcuni colleghi, altri filosofi, altri scienziati per scrivere tutti insieme questa enciclopedia. L'idea di base, come vi ho detto, è quella di raccogliere tutto il sapere umano. Noi oggi abbiamo Google, no? E qualsiasi cosa che non ci torna andiamo a vedere, la googoliamo e cerchiamo di capire la risposta. All'epoca, a partire da questo periodo, dal 1772, ma fino all'età praticamente dei nostri genitori quasi, se si aveva dei dubbi si andava sull'enciclopedia. Infatti anche Wikipedia o Wikipedia deriva il suo nome proprio da Enciclopedia. Quest'opera fu così innovativa che venne addirittura censurata, cioè bloccata per certi periodi, perché ritenuta sovversiva, cioè rivoluzionaria in pratica, proprio perché i sovrani, in particolare in Francia, non avevano piacere che le masse si educassero, perché avevano paura che se le masse si fossero educate e fossero uscite da questa condizione di ignoranza, avrebbero poi potuto ribellarsi meglio, diciamo, a chi governava. Bene, come sempre, spero che questa video-lezione vi sia piaciuta e ci vediamo in classe.